Per il Veneto e non solo, il 2 febbraio sarà ricordato come il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'autonomia. Un passo in avanti importante che è stato percepito in che modo a Bassano. Scopriamolo insieme. Trovo scandaloso invece che dal 2017 ad oggi si sia rinviato Sinedie e invece trovo una cosa molto positiva che oggi si comincia a parlare di questo e si affronti la situazione. Autonomia che significherà avere competenza su diverse materie, ma quali le più importanti? Quali quelle dove il Veneto deve lavorare di più? Sicuramente su tutte le materie che sono di competenza regionale, quindi penso alla caccia, penso alla sanità in primis, penso alla scuola. Sicuramente sanità in primis, presumo, scuola anche no, più la sanità sicuramente e poi anche un discorso fiscale, ma non credo ci arriveremo mai. Ci saranno regioni che correranno e regioni che resteranno indietro. Per certi versi o per alcune materie potrebbe essere anche interessante la cosa. Sicuramente secondo me le regioni che avranno più difficoltà resteranno indietro. Proprio sulle materie qual è una delle priorità per il Veneto, ad esempio la scuola, la sanità? L'autonomia, secondo me è giusta se è autonomia per tutti, ma se diciamo prima il Veneto, secondo la Basilicata e terza la Sicilia, non mi va proprio bene. Verrà fatta, sicuramente verrà fatta, ma non in quel modo che loro vogliono. Secondo me non nominano l'Italia della Nazione perché ci sono altre regioni virtuose, tipo il Trentino Alto Adige, che è già regione autonoma e funziona benissimo. Poi bisogna vedere i tempi, dico solo questo. L'aspetto più importante dell'autonomia differenziata potrebbe essere cosa? La scuola, la sanità, che cosa? Diversi aspetti, scuola e sanità in primo luogo credo.